Alcune parole sul viaggio, che cosa ne dici carissimo? Che cosa ne dico? Perfetto! Tranquillo, poche onde, non c'è schettino al comando Allora siamo in salvo? Siamo in salvo! Stiamo viaggiando verso l'isola Picozzo Adesso passiamo un po', guardando la flessura della nave Siamo al secondo livello Siamo venuti un gruppo di preti a Roma, dalla vecchia Ecco qua Siamo dal lato... dal lato sinistra, da questo praticamente Un saluto a te carissima famiglia Un bello viaggio, è stato molto divertente Adesso sta un po' muovendosi la nave Un saluto per tutti quanti, un abbraccio, ciao!